Ciao a tutti, sono Alessandro Delvecchio degli Age of Forever e siamo a lezione con su Rocker TV. Oggi parleremo di un aspetto che a me piace molto del canto, che è quello dell'interpretazione, cioè quello di poter creare dei caratteri vocali in base a quello che ci richiede il brano. Perché sì, noi siamo cantanti, noi applichiamo la nostra voce all'arte, a dei brani, a delle esigenze comunicative. Dobbiamo essere in grado di essere dei camaleonti, di poter cambiare il nostro personaggio vocale in base al brano e in base a quello che la situazione musicale ci richiede. E faremo un esperimento che è molto esplicativo e veramente molto molto semplice da fare per poter capire quello che è la potenzialità della nostra voce, perché tante volte noi ci nascondiamo dietro un solo timbro, dietro una sola interpretazione, perché entriamo in qualcosa che è confortevole, sappiamo com'è e non ci spostiamo, ma la grandezza di un cantante sta proprio nell'allargare le proprie dinamiche, i propri colori. E andremo proprio a prendere una frase e farla in diversi modi, diverse dinamiche. Partiamo proprio con il piano forte. Prendiamo una frase e la facciamo piano e la stessa frase, stessa tonalità la poi facciamo forte. Mamma sing the blues. Questa qui è una dinamica media, una dinamica che mi è comoda, che è vicina al mio cantato. Adesso la facciamo forte. Mamma sing the blues. Adesso la facciamo piano. Mamma sing the blues. Sentite già semplicemente cambiando dinamica quanto è cambiato lo spettro di quello che io posso comunicare, dal forte al medio al piano. Adesso invece andremo a fare la stessa frase chiaro scura. Che cosa vuol dire? Che noi possiamo, anche quando parliamo, quando comunichiamo normalmente, noi trasformiamo la nostra voce. Quando siamo eforici diventa acuta, quando siamo tristi o siamo pensierosi diventa cupa. La stessa cosa nel canto. E adesso faremo proprio questo, questo gioco di chiari e scuri. Una voce chiara e invece una voce scura. Mamma sing the blues. Invece scura. Mamma sing the blues. Ma possiamo accentuarli, accentuarli ancora di più e renderli ancora più dispersi nel nostro range di dinamiche. Sesso cantante. Già abbiamo visto cinque caratteri vocali diversi. Adesso andiamo in un altro modo che sembra viene sempre un pochettino messo lì nell'angolo. Invece è la modalità, a livello tecnico e meccanico, più difficile di tutte, ma era una modalità veramente importante perché è iperespressiva, che è quella del falsetto, quella cioè del suono dove c'è aria. Prima abbiamo visto tutte dinamiche, forte, piano, chiaro, scuro, ma comunque sempre in voce piena. Adesso la vedremo in falsetto. Quindi con aria che non è nient'altro che la mia stessa voce, la stessa vocalità, però rilasciando la tensione e mettendo aria. Mamma sing the blues. Sentite come cambia completamente. Io sono passato da mamma sing the blues. Mamma sing the blues. Cambiano completamente. Ma soprattutto questo vi permette di capire quanto c'è di più in una frase in realtà. Non c'è solamente il piano, il forte, il chiaro, scuro. Cioè possiamo veramente spaziare in tutto. E poi c'è l'ultima modalità che è quella che è la più avvincente che è quella dei suoni sporchi, quella dei suoni distorti, dei suoni più diciamo di rabbia, di espressività. E adesso andremo proprio in questa modalità. Mamma sing the blues. Quindi pensate dal suono in cui sono partito che era proprio la mia voce naturale. Mamma sing the blues. E sono arrivato a Mamma sing the blues. In mezzo siamo andati da suoni ariosi, a suoni leggeri, a suoni acuti, a suoni gravi. Pensate quante meraviglia c'è nella nostra voce. Provateci e vi divertirete sicuramente. E noi ci vediamo alla prossima pillola su Rocker TV.